tecnicamente se scripta sempre dai camet mi bro camet mi bro ma di mortacci mi è de quando l'un softback ha sparato un videogioco quanti cazzo si è levata dai coglioni qualcun altro dal carrello qualcos'altro dal carrello o porco dio no ecco i clicker si è l'unica cosa che effettivamente le fanno di potevo fare la stealth vabbè ma già marco tocco tanto il boss finale del video o ipnotizzato mio nonno allora ho messo mia madre dentro la realtà virtuale o ipnotizzato mio nonno a me non me ne raccordo che c'era il vento ma c'è il vento potrebbe fida di che bello tumorale il vento come funziona il vento scusa a video ma come da chi amere mortacci o che paroline ufficio mandraghe proprio è il pazzo ma che è il collet out questo ma questo si è palesemente sverginato secondo me aspetta aspetta il pischello no no non lo posso vedere tutta la madonna born to be barco cristo siamo deciso in parti ora vuoi usare lo share play si si vuoi usare lo share play con giocatori su una ps5 è assurda questa cosa i messaggi ora puoi attivare o disattivare le notifiche per ognuno dei gruppi di cui fai parte perché se facevi parte di tanti gruppi avevi notifiche infinite perché non potevi disattivarne noi di sony ti permettiamo di giocare sempre ai videogiochi nel massimo del rispetto per la tua persona insieme alliei sparatevi porco di so grazie bene 10 fra te grazie bello mio partenza meravigliosa ho già visto un adobbo no c'è volato un alettone ok non c'è la macchina che si addobba in teoria a figa c'è porco dio madonna puttana madonna e la madonna e puttana la madonna e puttana savelli savelli avere tutto il corpo rosso è un problema è un gran problema guarda si la bagner immaginati azzi di la bagner riga 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 immaginatevi immaginatevi una difesa con sergio ramos quali cari d'arri a taglia bravo attenzione può accalzare con sinistro siiii porco dio goto faffa il culo dimme che non è annullato si che è qua faccia credi te leggi troppo la chatta no 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 stavo in attimo serio perché pure io ho paura che venga annullato con calafiori ma poi se vieni fuori vieni fuori con qualità bravo calafiori nel ma bravo chi è questo bellissimo come scivoli vai adesso ore dopo cato quella dopo vabbè ok posso prende più più trofei deduco diventeranno più difficili ma posso farli tipo io vorrei fare i i back drop i cosi no le tipo qua che è arto sono pazzissimo chiamatemi il giastron di toy mike chiamatemi norca madonna chiamatemi il giastron di toy mike ho fatto un macello e sangue zio porco sto un po sto un po imotte ma tendo a stare anche un pochino del fazzone quando c'è uno di scappi ti schippa il me mail quando c'è uno di scappata che ti dice o te lo è aspetta se t'arriva persona x poi ti dice o vieni quello si nel k house nel k streaming te lo 10 milioni di euro ok ok però in realtà io non so secondo me sinceramente parlando non so quanto una persona come shroud che gli hanno dato i suoi non lo so amore che ha sincero 5 6 milioni non mi ricordo il fazzone il fazzone il fazzone il fazzone non è finita la infilo lì da te che sapete de scia de scia de scia che c'è sta marmellata darbicocca davanti eccolo marmellata di albicocca marmellata con le pere di tua madre Gesù Cristo dai ma vaffanculo dai sto stronzo dai dai ragazzi per Diana del niente so diventato un Beyblade so diventato mi dispiace nooo l'ho schippato nooo l'ho schippato per sbaglio nooo l'ho schippato per sbaglio è impossibile che io arrivi primo è impossibile che io arrivi primo c'era uno sulla montagna ha scritto in pausa non ha preso bene c'è uno che l'h da fa schifo fammelo un po' addobbato abonato grazie a tutti